Le persone credono che se ad una persona viene rubato il portafoglio, quella persona prova paura, quindi è stato l'evento a causare la paura. Se ad un essere umano gli fanno mobbing sul lavoro, allora lui prova un senso di impotenza. Se qualcuno ci prova con il loro partner, credono che questo evento gli crei la gelosia. Il problema sta nel fatto che invertono, in una maniera incredibile, invertono la causa con l'effetto. La causa è sempre in te e l'effetto è all'esterno, quindi non è che ti fanno del mobbing al lavoro e tu provi un senso di impotenza, ma è proprio l'opposto. E' il senso di impotenza che ti porti dentro, il stato latente nel tuo subconscio per mesi e mesi, che dopo deve creare, sottolineo il deve con la D maiuscola, deve creare un evento che gli corrisponde per legge della vibrazione o della risonanza. Quindi la causa in te l'effetto all'esterno. E' la paura che ti porti dentro che fa sì che il ladro rubi il portafoglio proprio a te e non ad un altro. E' la gelosia che ti porti dentro che fa sì che ad una persona viene il desiderio di provarci proprio con il tuo partner. Quindi la causa è all'interno, l'effetto è all'esterno. Lo continuo a ripetere perché le persone ignorano che non si attrae ciò che si vuole, si attrae ciò che si è. Mi ricordo di un ragazzo con la quale ho collaborato e mi aveva contattato perché gli facevano del mobbing a lavoro e mi ha detto ovunque vado, anche se cambio posto di lavoro, continuo a, diciamo, attrarre dei colleghi che mi trattano male. Però non credo alla legge di attrazione perché se esistesse la legge di attrazione io non vivrei questa situazione perché io non la voglio. Il punto è che tu non attrai ciò che vuoi, attrai ciò che sei interiormente. E ciò che sei interiormente lo decide la tua mente subconscia. Come fai a sapere che cosa sei adesso in questa fase della tua vita? Guarda il tuo esterno. Il tuo esterno riflette in maniera fedele il tuo interno. In realtà riflette il tuo interno però del passato. Non riflette il tuo interno attuale perché infatti questa è diciamo la trappola che impedisce ad un essere umano che lui è la causa e l'effetto all'esterno perché esiste il fattore tempo. Il tempo praticamente ti impedisce di notare che la paura che hai provato per tante volte, che l'hai fatta sedimentare dentro di te, poi crea un evento che gli corrisponde. Ma non accade subito, non accade dopo un giorno, non accade dopo due giorni. Tu hai provato quella paura tante volte, l'hai provata tante volte, sei sedimentata e magari dopo tre mesi vivi un evento che fa riemergere quella grande paura. Magari un ladro ti ruba il portafogli. Ma quell'evento in realtà è un riflesso del tuo passato. È un riflesso del tuo passato magari di tre mesi fa, di due mesi fa, di 50 settimane fa. Però è un riflesso in realtà del tuo passato, del contenuto che ti porti dentro ma che hai cristallizzato chissà quando. Perciò il fattore tempo è ciò che distoglie un essere umano dalla verità. È ciò che gli impedisce di notare che in realtà la causa è lui e l'effetto all'esterno. Se io ho un bar e mi sento ricco, i clienti devono arrivare. Sottolineo il devo con la D maiuscola. Non possono non esserci i clienti. Se io mi sento ricco, se io mi sento povero, i clienti non arriveranno. Non è l'esterno che lo decide, ma è l'interno. Ecco perché tu devi lavorare su di te. Poi i cambiamenti, una volta che tu riesci a trasmutare determinate emozioni, non li vivrai subito, magari li vivrai fra tre mesi, però la tua vita cambierà, cambierà completamente. Però solo come conseguenza. Quindi la causa è sempre in te. Non dimenticartelo. C'è una frase nella Bibbia che dice Ciò che un uomo pensa nel suo cuore così egli è. Di solito, nel 99% dei casi, quando la Bibbia parla di cuore, si riferisce al subconscio. Come un uomo pensa nel suo cuore così egli è. Ed è una frase che in realtà racchiude un concetto importantissimo che può cambiarti la vita se inizi a farlo tuo. Quindi inizi a considerare l'esterno come una conseguenza del tuo interno. Questo vuol dire una sola cosa. Che la colpa non è dell'esterno, non te la devi prendere quelle persone all'esterno. Se vuoi denunciare il fatto che ti hanno rubato il portafoglio, denuncia. Se vuoi denunciare il fatto che a lavoro ti trattano male, denuncia. Anzi, io sono per la linea dura, sii un guerriero e distruggi tutto. Quindi combatti, fai quello che devi fare all'esterno. Però a livello interiore devi riconoscere che la causa è in te. Infatti, se tu ti trasferisci e cambi posto di lavoro, piuttosto che partner, piuttosto che città, dopo un po' rivivi sempre le stesse situazioni. Perché tu ovunque vai porti te stesso. Quindi, dicevamo, il problema principale sta nel fatto che le persone non si rendono conto che il tempo non gli fa percepire il rapporto che c'è tra causa ed effetto. Ma il secondo problema sta nel fatto che un essere umano se la prende con gli altri esseri umani. Non capendo che se io provo paura, anche se non viene tizio a rubarmi il portafoglio e viene Caio, comunque sia qualcuno mi ruberà il portafoglio. Perché io ho creato la causa e l'ambiente esterno mi deve mostrare come sono fatto interiormente. Se io provo paura, il mio vicino di casa diventerà insopportabile, mi farà tutti i dispetti del mondo. Però la causa in me l'effetto è all'esterno. Io posso anche prendermela con il vicino. E in alcuni casi è giusto ed è sacrosanto che tu denunci e fai quello che devi fare. Però, anche se non ci fosse lui, arriverebbe un'altra persona che mi farebbe dei dispetti. Perché accade? Perché la causa è in te. Punto. Il rapporto che c'è tra l'esterno e l'interno, un essere umano medio non lo capisce mai. Lo ignora costantemente ogni singolo giorno della sua vita. La cosa bella della crescita personale è che se tu lavori al tuo interno, la tua vita cambia. Se le cose accadessero a caso, tu saresti realmente rovinato. Perché non avrebbe senso fare nessun percorso di crescita personale. Prima ti dicevo che c'era quel ragazzo che subiva del mobbing a lavoro. Tramite un percorso dove siamo andati a lavorare sul trasmutare la sua convinzione che le persone ce l'avessero con lui e soprattutto a cambiare l'emozione che provava quel senso di impotenza, che provava in ogni circostanza. Cambiando quell'emozione questa persona si è trovata in una situazione esterna totalmente diversa. Sul posto di lavoro le persone non se la prendevano più con lui. Com'è possibile? Semplicemente perché la causa è all'interno. Quindi sapere il fatto che la causa è all'interno ti dona una liberazione enorme, ti dà un senso di pace enorme. Perché vuol dire che se tu cambi, la tua realtà cambia. Quindi il lavoro sulla quale ti devi concentrare al 100% è cambiare il tuo interno. Se tu cerchi di cambiare il tuo esterno senza aver creato un cambiamento interiore, ciò che fai è una cosa stupidissima perché il cambiamento che crei non è un cambiamento duraturo. Quindi lavora su di te per fare in modo che i cambiamenti che crei siano duraturi. Sicuramente avrai letto il libro Il piccolo principe, dove c'è una frase che racchiude tutto quello che ho detto. La frase è l'essenziale è invisibile agli occhi, che è un altro modo per dire ciò che è invisibile crea ciò che è visibile. Il contenuto del tuo subconscio, che è tra virgolette invisibile, crea la tua realtà visibile esterna. Quindi in definitiva di questo video possiamo affermare che, punto primo, nulla è esterno. Ritieniti l'unico responsabile di ciò che ti accade, perché qualunque evento ti sia capitato di incontrare è solo un riflesso dei tuoi stati interiori. Non c'è nulla e nessuno da accusare all'esterno e al di fuori di noi, ma il cambiamento e la guarigione possono avvenire soltanto lavorando su noi stessi. La ricchezza, la gioia, la felicità, il benessere vengono creati da dentro. Se tu li cerchi fuori, li cerchi all'esterno di te, verrai deluso. Punto secondo, i tuoi stati interiori creano il tuo futuro. Le basi del tuo futuro le stai ponendo in questo preciso istante, con ogni tuo pensiero e con ogni singola emozione che provi. Diventa padrone della tua vita attraverso i tuoi pensieri e la tua psicologia. Sappi che ogni tua paura o sogno potrà realizzarsi. Impara perciò ad indirizzare i tuoi pensieri a ciò che vuoi, eliminando tutto il resto. E se provi spesso delle emozioni negative, impara ad integrarle perché altrimenti creeranno una realtà negativa. Punto terzo, fortuna e sfortuna non esistono. Queste non sono altro che parole di comodo che adottiamo per cercare di fuggire dalle nostre responsabilità. Ma in questo modo smettiamo di essere gli artefici del nostro destino. Perché nel momento in cui tu affermi che esiste la fortuna o la sfortuna, stai affermando che esiste una forza esterna più grande di te. E in realtà questo non è mai vero. È sempre l'interno che crea l'esterno. Regola numero 4. Non hai nemici. I nemici non esistono. Tutte le persone sono tuoi complici. Ti mostrano come sei fatto interiormente. Il nemico è solo apparente e trovarselo di fronte vuol dire semplicemente incontrare un nostro limite, una pecca del nostro essere. Qualcosa che in pratica va migliorata in noi. Se vuoi modificare il contenuto del tuo subconscio andandoci a lavorare in profondità e riprogrammandolo una volta per tutte, candidati alle mie sessioni di coaching. Trovi il link nella descrizione di questo video.